La qualità dei carri allegorici in concorso e il ritorno di gruppi mascherati assai numerosi sono indubbiamente questi gli elementi che hanno fatto dell'edizione 2017 del Carnevale di Sciacca una delle migliori degli ultimi anni dal punto di vista della fattura delle opere in cartapesta. C'è stato davvero un salto di qualità e tutt'altro che facile il lavoro della giuria chiamata a valutare i carri allegorici commissione giudicatrice composta da 18 giurati che si riunirà nelle prossime ore per il risponso finale ma tutto dovrà essere pronto per sabato prossimo 4 marzo, giorno in cui è già stata programmata la cerimonia di proclamazione dei vincitori. Una novità rispetto al passato, quando questo momento molto atteso dalle maestranze avveniva diversi giorni dopo la conclusione della festa e spesso si è trattato di una mera formalità visto che la classifica con i nomi dei vincitori si conosceva già prima dell'apertura delle buste contenenti il risponso della giuria. Adesso per evitare tutto ciò e anche le polemiche che a volte hanno accompagnato la fuga di notizie si è deciso di procedere alla proclamazione dei vincitori nel primo sabato dopo la fine della manifestazione. Una edizione che ripropone ancora una volta la sfida tra le associazioni, la nuova isola e saranno famosi 2007 protagoniste indiscusse della festa ormai da diversi anni. A contendersi il primato sembrano essere infatti carri allegorici, battito animale e raggi di luce, due opere di altissima qualità che hanno fatto la differenza. Fermo restando che altrettanto apprezzati sono stati anche gli altri carri in concorso a cominciare da Make Burlesque che ha attirato l'attenzione per l'originalità dei movimenti. Carri allegorici sottoposti quest'anno ad una doppia valutazione sono due infatti le schede consegnate ai giurati, una per la valutazione del carro per strada, una per la valutazione del carro nei pressi del palco durante cioè lo svolgimento dello spettacolo. Associazioni, la nuova isola e saranno famosi 2007 che si aggiudicarono il primo post ex sequo nel 2014 con i carri allegorici Pandora, Ultima Speranza e Loro di Napoli. Lo scorso anno invece a vincere è stato il carro Exportiamo della nuova isola con l'associazione Saranno Famosi piazzatasi al secondo posto con il carro Il Diavolo e l'Acqua Santa. Al carro vincitore andranno 28.000 euro, 27.000 euro al secondo, 24.000 al terzo, 23.000 al quarto, 20.000 al quinto e 19.000 al sesto classificato. All'associazione che ha realizzato il carro del Peppe Nappa andranno 9.000 euro. Sabato 4 marzo si conosceranno dunque i vincitori dell'edizione 2017 del Carnevale di Sciacca. Grazie.